Il corso è stato coinvolgente, è un gruppo veramente che ha nutrito tanto, quindi il suo nutrimento, il suo fare insieme le esperienze, il suo essere insieme. Questo mi è piaciuto del gruppo, mi è piaciuto il metodo, mi è piaciuto Patrizia, cioè quindi come posso dire, era un insieme di effetti che messi insieme hanno creato due bellissime giornate. È un'opportunità, no? Ce ne sono tante in giro, però è un'opportunità che viene dal cuore, che viene dal darsi l'opportunità per togliersi via qualcosa di troppo. Io vorrei raccontare una mia esperienza che ho avuto in questi giorni, facendo la Divine Connection. Ieri è stata una giornata molto pesante, nel senso che fisicamente è stata molto difficile per me, ma sono arrivate delle intuizioni e l'intuizione è stata, fra le tante, una che riguarda il mio rapporto con il cibo, ok? Quindi il mio rapporto con il cibo è un po' convulsivo, soprattutto dalla parte del dolce, ok? Quindi il cercare nel dolce è una gratificazione. Ho fatto la Divine Connection, ho sciolto questo problema e stamattina a colazione, per la prima volta non ho sentito l'esigenza e te lo dico scusa con l'emozione, ho sciolto questa cosa e non ho cercato stamattina la gratificazione del dolce. Non lo so, è la mia esperienza e te lo dico con l'emozione, perché veramente è stato un nodo che pensavo di non riuscire a sciogliere e invece è bastato veramente poco. La volontà è una tecnica che è veramente molto semplice. Grazie Patrizia, grazie di cuore.